e quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di nocce ehi ehi pronto ehi ehi magnifico ottima fonica Beppe Pellicciari segnatevi questo nome e questo niente vedete se vuole che faccia un pochino più morbida per favore ottimo Luci Carlo Signorini segnatevi anche questo ti faccio pubblicità poi questi se ne vanno a lavorare con gli altri perché li chiamano allora adesso ti faccio vedere le varie possibilità di seduta a teatro secondo me questo è il mio preferito sesta fila vicino al corridoio perché il teatro è bello ma qualche volta poter scappare non è male fortemente sconsigliato prima fila troppo laterale prima fila centrale ottimo posto però se c'è musica forte ti spettina posto molto ambito soprattutto da chi è alto perché si possono sdraiare completamente le gambe però pericoloso perché questa posizione qua così ho visto il mio primo spettacolo di Peter Brook valeva la pena anche per terra e qui è la prima volta che ho visto Giorgio Gaber posto tipico di quello che dice ne guardo un po' poi grazie a tutti